Il cammino che state compiendo è gravido di attese per l'avvenire della Chiesa greco-cattolica romena. Vorrei perciò augurarvi due cose, custodire la memoria e coltivare la speranza. Con questo auspicio Papa Francesco ha salutato i membri del Pontificio Collegio Romeno di Roma, ricevuti in udienza in occasione dell'ottantesimo anniversario della fondazione della loro sede. Irrobustendo la vostra memoria ecclesiale, ha proseguito il Pontefice, sarete aiutati a vincere la tentazione pericolosa di accontentarvi di una vita normale, dove tutto va avanti senza slancio e senza ardore, dove prima o poi si finisce per diventare custodi gelosi del proprio tempo e delle proprie sicurezze. Un pastore ha rimarcato Francesco in quanto discepolo configurato a Cristo che ha dato la vita fino alla fine, non può permettersi di scendere a patti con una vita mediocre o di adattarsi alle situazioni senza rischiare nulla. Per evitare la mediocrità del clericalismo, ha proseguito Papa Bergoglio, bisogna custodire la memoria. Il vostro collegio sia sempre più una palestra dove allenarsi a donare la vita con disponibilità. I vostri studi, strumenti di servizio per la Chiesa, che impreziosiscano anche la ricca tradizione culturale del vostro caro Paese. Custodire la memoria, dunque, non è semplicemente ricordare il passato, ma porre le bassi per il futuro, per un avvenire di speranza. Vi auguro che la vostra casa sia un cenacolo dove lo Spirito plasmi missionari di speranza, portatori contagiosi della presenza del risorto, coraggiosi nella creatività e mai scoraggiati davanti ai problemi e alle carenze di mezzi. Grazie. 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 Grazie.